Per un periodo, mio papà, quando ero bambino, ha lavorato in Spagna, in una piccola città sul mare, vicino a Tarragona, in Catalogna. Quello, forse, è il mio primo ricordo del mare. E poi, per me che sono un bolognese doc, il mare è la riviera romagnola. Le mie prime esperienze da studente, i miei primi lavorettini, i ristoranti, fino a quando, a 17 anni, mi sono imbarcato su una nave da crociera, come aiuto cuoco. Sulle navi ho imparato l'importanza del lavoro, del sacrificio, della disciplina, ma anche la scoperta di paesi nuovi, di incontri con le persone da tutto il mondo, mi hanno arricchito profondamente. In quegli anni ho capito che il mio futuro era diventare chef. La mia collaborazione con Costa è nata ormai sei anni fa. Alla base di questa collaborazione, credo ci sia l'amore per il viaggio, quella curiosità, quella passione per il mare. Una cosa che ho imparato viaggiando è che non c'è nulla di meglio della cucina per scoprire l'anima di un popolo. Ogni luogo che ho visitato e ogni persona che ho incontrato mi hanno insegnato qualcosa. Dopo ogni viaggio mi porto sempre a casa una ricchezza, una ricchezza di storia e di cultura, che poi rielaboro nella mia cucina. Poter accogliere nella grande famiglia di Costa due grandi chef provenienti da paesi ricchissimi di storia è stato un momento di grande confronto e di arricchimento reciproco. Abbiamo dato vita insieme a Costa ad Archipelago. Questo progetto è estremamente stimolante. Rappresenta un po' la celebrazione della cucina come qualcosa che unisce. La cucina, ricordatevi, nasce dal dialogo, dall'incontro e dalla contaminazione di storia e cultura. Bellissima! Questo è un ingrediente presente in una delle più belle ricette che ho preparato per Costa. Se dovessi sintetizzare in tre parole questo menù, direi per prima cosa la curiosità. Perché nasce dal voler scoprire ogni luogo, i piatti tipici, gli ingredienti che caratterizzano la tradizione. Come secondo direi la creatività. Perché la tradizione può essere rielaborata dalla mia sensibilità, dalle mie idee. Viene reinventata nei miei piatti per far nascere forse qualcosa di nuovo. E poi direi la sostenibilità. Perché mai come oggi la cucina deve essere attenta a questo tema. Nella scelta dei prodotti, dei produttori, nella cultura dell'antispreco. Ogni nostro passo in cucina deve essere in quella direzione lì. Quindi curiosità, creatività e sostenibilità rappresentano anche tre grandi valori che mi uniscono a Costa. Io spero che il mio menù sappia trasmettere il mio amore per il viaggio e che gli ospiti, nell'assaggiarlo, siano sempre più curiosi di scoprire il mondo e di viaggiare. Non vi resta che venire a scoprire il nuovo ristorante Archipelago e il mio menù sulle navi Costa. Grazie per la visione!